In Italia il problema sono i ladri e i corrotti, non i giudici. Che però ci sia bisogno di una riforma della giustizia, dentro la quale si possa e si debba discutere anche di responsabilità civile, è un tema maturo. Noi abbiamo già un disegno di legge che è già incardinato in Commissione, ma questa riforma la si deve fare tenendo insieme il diritto del cittadino e l'autonomia dei magistrati, senza intimidazioni. L'emendamento di ieri, che per un po' di sciatteria organizzativa del gruppo del PD, complessivamente, di tutti, abbiamo sottovalutato quella manovretta da Primissima Repubblica di 5 Stelle che era contro ma si astiene il voto segreto chiesto dalla Lega. Certamente sono stati un incidente che rimedieremo al Senato, ma la responsabilità civile non significa colpire il singolo giudice, significa che se c'è dolo, se c'è vera colpa grave, un cittadino può tutelare i propri diritti lesi chiamando lo Stato a rispondere e se si accerta una colpa del magistrato, lo Stato si rivale sul giudice. Ma non si può fare una cosa contro la magistratura. In questi anni già è stata troppo colpita e anche ragionare serenamente di riforma della responsabilità civile lo si deve fare rispettando un cardine costituzionale, il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Grazie.